Abbiamo parlato in precedenza di problemi legati al lavoro, tante persone che non ricevono neanche il sussidio di disoccupazione sono veramente alla frutta. Per contro devono pagare comunque le cartelle che arrivano da tutte le parti e soprattutto quelle di Equitalia. E' proprio grazie a Fabrizio del Movimento Antiequitalia che siamo qua nuovamente e ogni tanto ci rende erotti su alcune cose che spesso e volentieri ci sfuggono. O di cui nessuno parla. O di cui nessuno parla. Allora, due sono gli argomenti sul banco, ma oggi ne tratteremo uno soprattutto. Il primo è la lobby dei funzionari abusivi che si tiene stretta Equitalia, ma di questo per l'appunto parleremo in una prossima volta. La prossima volta vi renderemo erotti. Oggi invece di questo non ne parla nessuno. Sta succedendo una cosa ancora più scandalosa che... E' tenuta occulta. Ecco, ce la racconti. Sì, allora è uno scandalo che noi monteremo per tutto il 2016, oltranza, sinché non se ne interesseranno tutti i mezzi di comunicazione. E quindi qui siamo per la prima volta a mandare in onda un filmato che girerà su YouTube in tutti i social. Perché è da otto anni che abbiamo scoperto che la Corte dei Conti sta indagando su un favoreggiamento da parte dei funzionali di Equitalia nei confronti delle banche. I funzionali di Equitalia dovete sapere che si sono adoperati affinché le banche possano lucrare miliardi sulle casse dello Stato. In che modo? La storia è iniziata quando le banche si occupavano della riscossione. Per delle leggi fatte ad hoc dal governo Amato e anche da Lema, le banche possono scaricare sulla Fiscalità Generale alcune perdite di esercizio. Per farla breve, quando si occupavano di riscossione alcuni crediti che gli poteva costare un po' di tempo andare a riscuoterli, li hanno dichiarati inesigibili se li sono scaricati. Quindi, quando poi questa macchina di riscossione è passata ad Equitalia, lo Stato si è accorto di questo ammanco e ha chiesto conto alle banche che ne rispondessero, perché non avevano fatto il loro dovere per conto dello Stato, quando la riscossione la facevano loro. Bene, queste banche hanno detto, ma noi li abbiamo dichiarati inesigibili, ce li siamo scaricati. Grave errore, adesso li dovete pagare. L'Agenzia delle Entrate ha fatto le cartelle e, morale della favola, sapete chi si è messo contro? Equitalia. I funzionari di Equitalia hanno firmato migliaia di ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate affinché le banche non pagassero miliardi. Quando la Corte dei Conti ha fatto ricorso, sia regionale, sia la Corte dei Conti regionale, e poi è finita la Procura della Corte dei Conti generale, le banche hanno perso in tutti i gradi di giudizio. Allora sono ricorse a quello a cui ricorrono di solito, la loro lobby di parlamentari, che gli ha fatto una sanatoria ad hoc, di cui nessuno sa niente, con cui hanno sistemato il tutto al 10%. Quindi voi pensate che mentre si massacrano, chiedendo il doppio del doppio del doppio, poveri cittadini, artigiani, commercianti, disoccupati e pensionati, alle banche Equitalia li difende. E quando anche pagassero solo il 10%, ci pensa il Parlamento a fargli una sanatoria. Questo scandalo è di proporzioni gigantesche, noi intuiamo quale punta dell'iceberg si stia tentando di coprire, terremo gli occhi aperti, faremo delle manifestazioni, pensiamo che questa è una cosa che possa interessare soprattutto i parlamentari che all'epoca non c'erano, quindi può darsi che il Movimento 5 Stelle cavalcherà la battaglia. Sin dal prossimo mese lo troverete nel nostro sito antiequitalia.org con tutte le specifiche e adesso che la Corte dei Conti ha ripreso i suoi lavori dopo la pausa estiva, staremo attenti e vigileremo in modo da informare tutti i cittadini sull'andamento di questa vicenda, perché dovete sapere che la Procura Generale della Corte dei Conti ha messo in discussione anche la sanatoria che hanno fatto i parlamentari, perché è basata su presupposti sbagliati. Quindi se per caso vi interessa sapere perché e per come e i nomi di coloro che hanno favorito le banche, perché i funzionari di Equitalia che si sono messi a firmare ricorsi per conto delle banche sono stati sanzionati dalla Corte dei Conti perché non avevano nessun titolo per farlo, non solo, avevano un interesse opposto, cioè Equitalia è stata pagata per riscuotere i crediti, solo che lo fa con i deboli, non con le banche. E pertanto noi chiediamo la destituzione di questi signori, per cui l'argomento dei funzionari, di questa lobby di funzionari contigua ad alcuni parlamentari, riguarda l'Agenzia delle Entrate, di cui parleremo la prossima volta, ma riguarda soprattutto Equitalia perché le abbiamo colti con le mani nel sacco. Equitalia, come mi diceva un'altra volta, non assumeva per concorso. No, Equitalia è una oldic, è una SPA, è stata formata col pretesto della lotta all'evasione, le indicazioni per chi metterci le hanno date i partiti, ovviamente essendo un qualcosa di un pochettino rognoso hanno pensato di coinvolgere tutta la partitocrazia, tutto l'arco per noi prostituzionale ha fatto in modo di andare a partecipare con i loro uomini che magari non hanno vinto le elezioni o i trombati o i figli di funzionari, anche di magistrati, li hanno collocati dentro Equitalia. La missione era quella di fare la lotta all'evasione. In vero Equitalia con la lotta all'evasione non ha nulla a che fare. Equitalia persegue, anzi perseguita la piccola e la povera morosità incolpevole, aggravandogli i debiti. E per chiamarla lotta all'evasione hanno dovuto fare delle alchimie, usano un lessico bancario molto artefatto, ma in realtà la loro provvigione non è su quello che incassa lo Stato. La loro provvigione è sul debito che riescono a creare. Con tutto il sistema sanzionatorio, su una stessa omissione di pagamento al cittadino, si può vedere anche 10-15 codici addebitati nella cartella. Perché in base alla fantasia del bancario, o in questo caso della ordine Equitalia, con tutti questi codici c'è un sistema sanzionatorio dinamico che cresce nel tempo e quindi aumenta di un 30-40% all'anno, morale della favola, nel giro di qualche anno, già il doppio quando esce dall'Agenzia delle Entrate. Poi arriva ad Equitalia nel giro di qualche anno, raddoppia ancora e diventa irrisolvibile. Ma loro la provvigione la prendono sul debito che hanno creato. Esatto. Domanda. Quando per esempio arriva una cartella di Equitalia, visto che siamo proprio anche parlando di piccole cose, uno tenta a metti ad avere una cartella da 1.000 euro, paga 1.000 euro, diceva, vabbè, devo pagare. Però, di questi 1.000 euro, quanto paga Imbalselli? Beh, quando arriva a Equitalia il credito è il doppio del doppio. Sì. Quindi in realtà lui avrà omesso di pagare magari 200 euro, oppure avrà avuto una sanzione stradale per 80. Il discorso è questo, siccome questo sistema premia l'aumentare del debito, loro sono riusciti in questo modo a inventarsi, perché sanno che è inventato di sana pianta, un debito nei confronti, loro hanno un credito nei confronti dei cittadini italiani, che si trovano con questo debito, di circa 600 miliardi di euro, che hanno stimato che neanche gli Stati Uniti d'America, in un boom economico, riuscirebbero mai a pagare una somma del genere in 30 anni. Di contro lo Stato ne incassa 6. Ma gli deve pagare le provisioni su 600. Quindi si capisce che questo è un meccanismo infernale per rendere i debiti irrisolvibili. Secondo noi, se ci fosse un calmiere, cioè più del doppio non puoi andare, e poi magari indicizzato, perché giustamente la macchina si deve pagare da sé, non può essere scaricato il costo anche sui cittadini che sono regolari nei pagamenti. Ecco, ma se ci fosse un calmiere e i crediti si potessero affrontare senza rischio di buttare soldi per niente, lo Stato incasserebbe di più. Oggi, quando un cittadino prova ad affrontare, soprattutto se è un piccolo artigiano, un commerciante, uno che vive nell'economia reale, non un finanziere, quando prova ad affrontare uno di questi debiti è versa qualche rateazione, si rende conto dopo un pochettino di tempo che ha pagato solo interessi, non è riuscito a risolvere niente. Intanto magari ha la casa pignorata. Ecco, noi chiediamo anche per questo, che ci sia anche un tetto anche lì, cioè che la casa non possa mai andare all'asta a meno della metà del valore, perché altrimenti noi non riusciamo a pagare dei debiti che diventano stratosferici. D'altro canto mettiamo i cristiani per strada senza più soldi, senza più casa e senza essere riusciti svendendogli la loro casa neanche a pagare il debito, il che è l'esatto contrario di quello che serve allo Stato. Quindi calmierare questa macchina trita famiglie e far sì che ci sia un elemento di garanzia che nel caso vengano venduti i beni all'asta non possa andare mai le aste al di sotto del 50%. Ci si prenderà un po' più di tempo per incassare, ma almeno hai patrimonializzato quel credito. Effettivamente tu Stato li prenderai. Se tu fai sì che all'asta possa andare deserta e scendere sempre di più, è chiaro che tutti aspettano alla fine quando va per 10.000 euro. Questo ovviamente è un crimine sul crimine. Certo. Noi abbiamo concluso, noi ringraziamo Fabrizio che ci rende... Vi aggiornerò se questa vicenda. Sì. Certo. Lo scandalo presso la Corte dei Conti, presso la Procura Generale, appena all'inizio. Sì. Tra poco verranno chiamati a deporre i funzionari di Equitalia e i parlamentari che gli fecero la sanatura al 10% in modo illegittimo. E quindi la prima emittente a saperlo sarà quella che a noi più vicina. La ringrazio Fabrizio e naturalmente ringrazio anche ai nostri telespettatori per l'attenzione. Questa nostra chiacchierata faceva parte dello spazio riservato alle associazioni, in questo caso il Movimento per la Gente, Antiequitalia. Su quale sito potrete seguire sul nostro sito dal mese prossimo gli sviluppi di queste e di altre vicende e anche qualche suggerimento per difendervi? Antiequitalia il sito? Il sito antiequitalia.org Perfetto. Grazie per averci seguito e arrivederci a tutti.